Come si diceva la compagnia Costa? In cui trovarono la morte tre membri di Equivaggio, finì nell'angolo a spigolo di una banchina, giù a Sharmer Sheikh. Anche barche supplementari per lo sbarco di questi passeggeri, probabilmente si muove a pieno carico, siamo intorno ai 1600-1700 persone di crociera. Anche barche.